Anche domani restano attiva a Cremona le misure di secondo livello contro l'inquinamento, rientrano invece a Lodi e Pavia. In città dunque le PM10, le polveri sottili, non a preoccupare. E si pensa anche alla salute con polmoni e problemi cardiaci che possono risentire di questa situazione climatica. Come fare allora per provare a difendere la nostra salute? L'abbiamo chiesto a un esperto. Il consiglio è quello di non fare attività fisica se non in un ambiente protetto, in un ambiente indoor, di usare quando possibile le mascherine che ci proteggevano per il Covid-19, che hanno una buona protezione se vengono indossate nell'ambiente esterno. Attenzione anche alle malattie cardiovascolari. Questo è un rischio non solo per i nostri polmoni, ma anche per le nostre arterie, perché quelle più sottili vanno nell'apparato circolatorio, danneggiano l'endotelio, che è la parte più interna dei nostri vasi, aumentano il rischio di infarto miocardico, di ictus, eccetera.